Sì, sì, ma il campionato mi ha fatto quello che l'Orivento doveva fare in questo momento. È terza in classifica, lotta per ottenere un punto, una posizione in Europa League, in Champions League in questo momento. Mi sembra che siamo nel tempo giusto, poi si può pareggiare come mi è pareggiato con la Fiorentina meritando di vincere, si può pareggiare giustamente a Brescia perché mi pareggia era giusto, si può pareggiare secondo me contro la Roma se potrebbe ottenere qualcosa in più. Ma quello che volevo chiederti è se alla squadra chiedi un po' più di cinismo al di là delle buone prestazioni. No, noi dobbiamo almeno costruire le zone da gol e palle gol, di avere una certa mentalità, poi ci vuole anche un po' di momento favorevole, però non è che pretendiamo di vincere tutte le partite, noi dobbiamo giocare al top per vincere le partite, per poter andare in campo con la mentalità per vincere, poi le situazioni di campo, tante volte vedersi rimanere le le ultime partite e dicono di no e tu devi sottostare a un risultato che magari meriteresti in modo diverso. La Juve in questo momento non ha mai preso gol su azione in queste ultime partite, ne ha presi pochi di gol e quindi non ha preso mai su azione e quindi penso che in certe situazioni un po' più di attenzione secondo me è dovuta e penso che questo lo possiamo fare benissimo rispettando anche le qualità degli avversari che quando sono anche loro su azione da fermo hanno qualità importanti per farti male, però io penso che l'attenzione, con un po' più di attenzione quei tipi di gol non si prendono tutto lì, non ha niente da perdere come tutte le squadre che hanno queste caratteristiche, squadra veloce, allenata molto bene, Giamparo è un ottimo allenatore, ha giocatori veloci, giocatori che calciano disinvoltamente in porta a diversa metratura, in casa hanno un supporto del pubblico importante quindi sono molto intensi, direi che troveremo un ambiente di calore, penso pari a quello di Genova, come rapporto affetto della gente verso la propria squadra, il sostenimento che avranno loro verso i propri Beniamini per poter ottenere un risultato importante.